La preparazione dei colpi sia per il dritto che per il rovescio. Vediamo che cosa succede in realtà quando io faccio la primissima rotazione per andare verso la palla, cioè quando il mio piede più vicino alla palla si orienta per muovermi verso la palla. È opinione comune quello che si insegna di solito che la rotazione del tronco sia contestuale alla rotazione del piede e le mani salgano per preparare la racchetta, questo nel dritto e anche nel rovescio. Ma vediamo in realtà che cosa succede. La prima rotazione è l'inizio della fase di preparazione del colpo. Di solito, anch'io ho fatto questo errore, si insegnava o si insegna nel momento in cui il giocatore comincia a ruotare per andare verso la palla, le mani e la racchetta salgono per preparare il colpo. Vediamo in effetti che cosa succede. Rublev, quando inizia ad orientare il piede verso e aprire l'anca verso la direzione della palla, le mani sono ancora basse, quindi non salgono, le due mani non salgono per portare la racchetta indietro, ma lo fanno in un secondo tempo. Questo nel dritto. Vediamo anche, ecco, anche Zizi Pass. Nel momento in cui lui apre l'anca, orienta la gamba destra, le spalle girano, iniziano a girare verso la direzione dove dovrà poi andare a colpire la palla, le mani sono ancora basse. Djokovic, stessa cosa, quindi il piede destro si orienta, le spalle iniziano a girare, guardate quanto tempo dopo inizia la preparazione del colpo. Vediamo su questo rovescio di Federer, il replay. In questa fase lui orienta il piede, le spalle, le spalle, le mani sono ancora basse e ora iniziano a salire. Stessa cosa per Dominic Thiem sul rovescio. E di nuovo Djokovic. Vedete il piede si orienta, le mani sono ancora basse per poi salire in un secondo tempo. Quindi per un'ottima esecuzione del colpo, nella primissima fase di orientamento verso la palla, le mani devono rimanere basse per poi iniziare la preparazione nel momento in cui è necessario farla. Dipende chiaramente dalla velocità della palla. Però noi adesso abbiamo analizzato la primissima fase della preparazione del colpo, quindi quando il giocatore inizia a girarsi ed andare verso la palla. Buon tennis a tutti!